In Abruzzo sono circa 15.000 i morti annui, un numero importante che fa crescere la domanda di nuovi spazi di tumulazione all'interno delle aree cimiteriali, gravate dal problema di gestione delle salme che spesso, al termine del periodo di durata della concessione, restano intatte necessitando di un allungamento dei tempi di tumulazione per consentire, parafrasando i testi sacri, di tornare ad essere polvere. Ad acuire il problema ci è pensato anche la pandemia, ma una soluzione alla difficoltà di gestione delle salme potrebbe arrivare dalla costruzione di un tempio della cremazione al centro di un progetto di fattibilità approdato in Commissione Lavori Pubblici a Pescara. A parlarcene è il sindaco Carlo Masci. Per ora siamo allo studio di fattibilità per un project di natura pubblica che riguarda un tempio della cremazione, ormai questo metodo è usuale in molte parti d'Italia, in Abruzzo non c'è. Noi pensiamo che Pescara comunque debba fare da battistrata perché a Pescara c'è un problema serio e reale di spazi all'interno dei due cimiteri cittadini, sia quello di Collide Madonna che di San Silvestro. Noi pensiamo che si possa realizzare, lo studio ce lo dice a San Silvestro nelle aree limitrofe al cimitero attuale. Il costo è tra 3 milioni e 4 milioni di euro per due impianti senza alcun impatto ambientale. Adesso la Commissione ha dato parere favorevole, si dovrà lavorare per verificare se ci sono anche privati che vogliano realizzarlo. Quando si parla di tempi della cremazione di solito insomma c'è sempre un po' di reticenza da parte dei cittadini che poi dovessero trovarsi questa struttura nelle vicinanze di casa. Credo che sia più una questione culturale, però le persone comprendono perfettamente che si deve andare verso una soluzione ulteriore rispetto alla tumulazione tradizionale e la soluzione ulteriore è proprio quella del tempio della cremazione. Ci saranno anche emissioni nell'atmosfera, da questo punto di vista lo studio cosa ha decretato? Le emissioni sono praticamente zero perché gli impianti sono tutti modernissimi di ultima generazione e garantiscono la tutela dell'ambiente in maniera assoluta.